Musica Salve a tutti gli utenti di EveryEye siamo qui di ritorno dalla prima conferenza della giornata inaugurale delle 3 ci riferiamo ovviamente a quella Microsoft il colosso di Redmond ha mostrato la sua line up un sacco di titoli terze parti che arriveranno ovviamente su Xbox One e ha anche annunciato qualche nuova esclusiva ovviamente ad introdurre l'evento è stato Phil Spencer che ha ereditato le redini della divisione Entertainment di Microsoft dopo l'abbandono di Don Metric e questo avvicendamento al vertice di Microsoft ha segnato anche un integrale abbandono della politica precedente con cui diciamo Xbox One è stato lanciato e che probabilmente ha determinato un attimino di oscillazioni nelle vendite del primo periodo Phil Spencer ha quindi ammollato un attimino il Kinect e dopo aver annunciato qualche giorno fa qualche settimana prima della conference l'arrivo di una versione della console senza il sensore di movimento ha oggi riconfermato l'intenzione di assumere un ruolo fondamentale nell'industria videoludica l'ho fatto presentandoci per 90 minuti una serie densissima di titoli abbiamo cominciato con un classico ovvero con Call of Duty Modern Warfare l'FPS di Activision riconferma la fiducia nei confronti del brand Microsoft e quindi i nuovi contenuti arriveranno come sempre è stato per i Call of Duty prima su Xbox One l'inizio della conferenza non è stato particolarmente felice devo dire perché il brand di Activision non ha mostrato grandissime cose l'azienda si insiste a mostrare per primo il single player che non è probabilmente la parte migliore della produzione prima di tirare le somme quindi dovremo vedere il multiplayer abbiamo comunque continuato con una serie di titoli esclusivi per Xbox One davvero interessanti ovvero con Forza Horizon 2 e Sunset Overdrive il primo ha già confermato le sue ottime potenzialità su Xbox 360 e arriverà con un cambio di setting che ci porterà nelle atmosfere dell'Europa meridionale fra cui non possiamo far altro che citare anche la presenza dell'Italia ci saranno condizioni climatiche variabili per un'esperienza di guida open world ai massimi livelli anche Sunset Overdrive ci ha colpito moltissimo si tratta di un action, uno shooter in terza persona che però recupera diciamo quella idea quella passione per lo stile per le uccisioni un po' rocambolesche che sembra derivata direttamente da Jet Set Radio il protagonista infatti può effettuare dei grind su tutte le superfici della città aggrapparsi ai fili della corrente e quindi cercare di uccidere i propri nemici in maniera più stilosa possibile oltre a questo Microsoft ha riconfermato la fiducia che tanti publisher hanno nei confronti della sua console ad esempio Evolve è stato mostrato diciamo un nuovo trailer che annuncia l'arrivo di nuovi mostri ma anche di contenuti esclusivi per le piattaforme Microsoft Ubisoft è salita sul palco della conference con ben due prodotti all'inizio della conferenza infatti abbiamo visto una sezione di gameplay di Assassin's Creed Unity una missione giocata tutta in cooperativa il gioco non rivoluziona diciamo la parte legata al combattimento e questo è forse una piccola macchia sul curriculum di una serie multimilionaria però a livello tecnico finalmente vediamo la potenza delle console next gen sfruttata a dovere ad esempio nella gestione della folla e delle animazioni del protagonista successivamente vediamo anche The Division uno sparatutto in terza persona che sembra decisamente intenzionato a rivoluzionare le meccaniche tipiche del genere probabilmente The Division potrebbe essere per questa generazione quello che Gears of War è stata per la scorsa larghissimo spazio è stato dato anche alle produzioni indipendenti che fanno parte del programma ID at Xbox per recuperare il terreno perduto nei confronti di Sony Microsoft ha avviato la sua personalissima politica di publishing e tanti team hanno aderito portando su Xbox One i loro prodotti fra i più interessanti non possiamo che citare l'inside di Playdead i creatori di Limbo che adesso arrivano con un nuovo prodotto dalle dinamiche molto simili al predecessore e ovviamente sempre caratterizzato da un profilo artistico di alto livello c'è anche un'altra importante esclusiva legata al mercato digital delivery ma prodotta dai team interni di Microsoft il titolo si chiama Ori e sembra un incrocio abbastanza eterogeno fra le dinamiche di un platform bidimensionale e uno stile artistico che ricorda da vicino quello del bellissimo Child of Light sicuramente è stato uno dei titoli che più ha solleticato le nostre corde emotive nel corso della conferenza ma non sono finite ovviamente le produzioni AAA dopo aver annunciato qualche settimana fa che Halo 5 Guardians sarebbe stato rimandato al 2015 tutti gli utenti si aspettavano da Microsoft un nuovo prodotto legato al franchise di Master Chief e arriva infatti una corposissima collection che rappresenta il sogno bagnato di ogni appassionato della saga all'interno del disco troveranno spazio infatti tutti i quattro capitoli regolari della serie i primi due disponibili in versione anniversary quindi con una grafica totalmente revisionata se però siete appassionati del multiplayer di Halo 2 dovete sapere che questo è presente anche nella sua versione originale e sappiamo che dopo la chiusura dei server moltissimi aspettavano una cosa del genere all'interno del pacchetto c'è anche l'accesso anticipato alla beta di Halo 5 Guardian che comincerà proprio questo autunno quindi se siete fan di Master Chief non potete assolutamente perdervi questa collection alla grande il supporto delle terze parti per Xbox One nonostante infatti la situazione non sia attualmente rosea come quella di PlayStation 4 sul palco della conference Microsoft sono saliti sia i ragazzi di CD Projekt Red che ci hanno mostrato una sessione di gameplay dello smisurato The Witcher 3 che Square Enix che ha scelto proprio il palco della conferenza del colosso di Redmond per annunciare il nuovo Tomb Raider sequel attesissimo da tutti i fan di Lara Croft il pezzo forte della conference sono state però le tre esclusive annunciate sul finale purtroppo non si è visto nessun video di gameplay di questi tre titoli stiamo parlando ovviamente di Phantom Dust del nuovo titolo di Platinum Games che si chiama Scaleborn e dell'eccezionale Crackdown 3 che si riconferma un free roaming esagerato con uno stile da comic americano c'è da dire che molti utenti si sono purtroppo lamentati dell'andamento della conference forse perché moltissimi dei titoli mostrati sono in effetti multipiattaforma e perché questi ultimi tre annunci sono stati mostrati solamente attraverso trailer in computer grafica c'è da dire che tanti quindi si aspettavano o un annuncio un po' più eccezionale roboante rispetto a quello di Crackdown 3 o almeno delle spezioni di gameplay anche al netto di tutte queste considerazioni a noi la conference ci è sembrata ben tenuta sono stati 90 minuti fittissimi c'è stato spazio solo per i giochi con un intervento un po' più casual legato all'ottimo Dance Central i ritmi intensi di questa conferenza sono quindi stati per noi fra i migliori degli ultimi anni e siamo veramente contenti che Microsoft abbia capito che sul palco delle tre i giocatori vogliono vedere soprattutto i software crediamo fortemente che nonostante ci sia da aspettare un altro po' per vedere sequenze di gameplay delle nuove esclusive Microsoft abbia voluto mandare un messaggio confermando quindi che i publisher credono nel progetto credono nel futuro di Xbox One e soprattutto parlando agli utenti che più amano il multiplayer tantissime delle produzioni mostrate infatti hanno una modalità cooperativa o competitiva e grazie ai server dedicati il servizio Xbox Live può veramente primeggiare rispetto alla rivale crediamo quindi che Microsoft abbia saputo ben parlare alla sua utenza ai suoi fan e che questo rappresenti l'inizio di una nuova epoca per Xbox One grazie a tutti grazie a tutti